Sua maestà lo stufato alla San Giovannese è celebrato domenica 21 febbraio con il settimo palio a lui dedicato. Stavolta ai saloni della Basilica si sfideranno i migliori cuochi del Vasare di Figline istruiti da classici stufatari. Insomma un ideale passaggio di consegne tra generazioni. Il palio di famiglia si tramanda la tradizione e quindi i giovani assistiti e guidati da sei tutor che sono poi i finalisti della finale fuffatta dello stufato di famiglia che insegnano o guidano questi giovani cuochi, questi giovani allievi della scuola Vasari a capire lo stufato e a saperlo realizzare. Ovviamente per domenica non mancano le iniziative collaterali. Giornata bella, di festa, arricchita da Via delle Spezie che prenderà tutto il corso e tutta la piazza Cavour principale di San Giovanni Valdarno, i mercatini della terza domenica in Via Garibaldi per quanto riguarda l'arte del proprio ingegno, il mercato del vintage sotto il comune, sotto Palazzo d'Arnolfo. Se è anche una giornata bella mi pare che veramente si avrà un'occasione di stare a San Giovanni in maniera bella, in una cornice veramente ideale come quella della nostra cittadina e del nostro centro storico. Ancora disponibili alcuni posti per divenire giuria popolare con gli assaggi dello stufato. L'iscrizione è possibile alla Proloco Roberto Costagli, il voto poi sarà equamente pesato tra cittadini e giurati scelti.